Questo è un altro tassello di un percorso che noi abbiamo avviato tempo fa, che mira a formare giovani con alta professionalità in collegamento con grandi aziende che poi ne assicurano anche la collocazione nel mercato del lavoro ad alto livello. Noi abbiamo bisogno di formazione, ricerca e posizioni lavorative qualificate per fare in modo che i nostri giovani possono essere trattenuti sul territorio. Oggi parliamo di mobilità, di infrastrutture, è un altro dei temi fondamentali per il rilancio del Sud e il rilancio di Napoli, ci sono grandi risorse nel PNRR, abbiamo bisogno anche di grandi professionalità soprattutto di giovani che abbiano la velocità e le competenze per riuscire a mettere a terra tutte queste prospettive che sono prospettive fondamentali per tutti noi.